Siamo in compagnia di MC Jerry, la nuova stella italiana dell'hip-hop. Come nasce artisticamente MC Jerry? Jerry nasce da circa 15 anni che io faccio questa musica e da allora non ho mai smesso di fare questa musica e ci sto credendo alle mie qualità, sto andando fino in fondo. La mia forza è quella di crederci e di andare avanti. Tanti testi, tante musiche, tante canzoni, un futuro sicuramente radioso, l'interessamento di case discografiche, un anno che sicuramente porterà a fortuna, il 2009, a MC Jerry. Per quale motivo in particolare secondo te? Niente, la nostra musica è la forza di punta che può darci la forza per andare avanti per scrivere. Jerry ci mette presto e in più abbiamo una grande forza alle spalle che è Lucania Network che sta curando un attimino questo artista e io credo che il 2009 ci porterà tantissima fortuna. L'emozione infine che vuoi trasmettere al pubblico? La mia emozione è quella di comunicare alla gente quello che io trasmetto nelle canzoni, di farlo in un modo particolare, non creare la stessa tipologia di quello che già esiste, ma di creare qualcosa di nuovo. Un saluto al pubblico dell'internet su questo blog. Su questo blog potete vedere MC Jerry, youtube, mcjerry.com e questo blog dove io sono visibile di cliccare tantissime volte e di venire a trovare. Appuntamento a presto, ne sentirete parlare per un fenomeno musicale nei prossimi anni. Grazie.